Vediamo adesso l'esercizio, un'entrata in spaccata sagittale, momenti coreografici per la cinesina, una jambè con cambio seguita da un salto raggruppato con 360 gradi di rotazione. 9 e 6 in qualificazione. Momenti coreografici per lei, per eseguire un salto avanti raggruppato con un gravissimo errore. E' oro per la Ponor. Sicuramente, è oro per la Ponor. Un salto del montone, continua comunque il suo esercizio la Ligia. Argento va dunque alla Patterson, la cinese sta chiudendo la prova, lei che è nata il 13 giugno del 1988, 1,39 per 32 kg, davvero magrissima e piccolissima. Sì, ancora delle evoluzioni acrobatiche e momenti coreografici per la cinesina. Lei è stata quarta nel campionato del mondo della passata stagione e alla trave, quarta nella competizione a squadra, sempre nel campionato del mondo della passata stagione. Anche per lei è una giamba e cambio ad anello, con piccola indecisione all'arrivo. Purtroppo ha già commesso un gravissimo errore. Non è facile risalire sulla trave e sapere che sei già fuori dalla zona medaglie. È una rondata a doppio salto d'uscita.